Come sta la criatura? Non perdite ancora. Ho raggiunto il cuviente. Voglio farti una proposta di affari. Scopriamo una bocca per terra e poi la copriamo. Ti sei la figlia, Rocco. E per... E la tienne, caro amore. Rocco! 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 Il mondo che ci hanno soffi... è mort. Non sa qui.